Il Dottor De Nobili è uno dei massimi esponenti italiani di medicina potenziativa. Prego Dottor De Nobili. Chi era? Chi era? Beh, allora, direi che Emanuele, oltre che avere la fortuna di averlo come amico, ha una fortuna lui di essere direttore delle spa più importanti in Europa, che è Villa Eden, è direttore sanitario. Da quanti anni usi LS Drive ormai? Due anni e due mesi. Due anni e due mesi. Quanti test? Mamma mia. Però la cosa interessante è vederlo lavorare in team, in squadra, con i suoi ragazzi, con le persone. umiltà importante, disposto sempre a collaborare, ad ascoltare. Io penso che oggi siano cose preziose e rare. Grazie di cuore. Aspetta che c'è prima la canzoncina. Beh, grazie a Giorgio per l'invito, grazie anche ai due moderatori. Non ce l'ha. Sembra la canzone prima della UEFA Champions League. Ok, posso andare avanti? Siamo in Champions League. Siamo in Champions League. Ah, di nuovo, riparte. Ok, ho stoppato la canzoncina. Ecco qua. Allora, questa è come vi ha fatto, mi ha anticipato prima Giorgio, dove ho la fortuna di avere la mia clinica inserita all'interno di questo bellissimo albergo di lusso a Merano. Cittadina a 300... Una stella, una stella. Una stella, sì. Ti metti e guardi le stelle. E andiamo avanti. Come diceva Giorgio, io lo conosco da sei anni, Giorgio, ma due anni, era aprile del 2022, e ho detto, vabbè, partiamo con la S-Drive, in questi due anni e due mesi esatti, sono arrivato proprio l'altro giorno a 1600 test, perché lo faccio ormai, l'ho messo di default a tutti i clienti, i pazienti che accedono a Villa Eden. È diventato uno strumento fondamentale anche perché da me, a differenza di chi lavora in ambito di ambulatorio, le persone stanno dai 7 ai 15 giorni, per cui ho bisogno di avere dei dati immediatamente per poter partire poi con delle strategie. E questo è ovviamente un test che a me poi, Giorgio sa, mi occupo come parte medica all'interno della clinica, soprattutto della parte di terapia infusionale, mi dà la possibilità di far vedere, carte alla mano, quali sono le carenze del momento, e partire subito con una supplementazione endovena, che se già il selfo da l'80%, sappiamo che l'avena è 100%. Posso usare dosaggi più alti, parto sempre di solito con un qualcosa di detox, uso l'S adenosimetionina, piuttosto che insieme a colina e inositolo, e poi in base alle carenze aggiungo vitamine, minerali, aminoacidi. E devo dire che un po' l'ambiente, un po' l'alimentazione, che a me li metto tutti a diete molto ristrette, sono abbastanza selettivo, faccio un po' di pulizia per una settimana, quelle due settimane senza glutine, latte derivati, cerco di mantenere il giusto tenore proteico con carne e pesce, pochi carboidrati, quei pochi sono derivati da cereali senza glutine, e tante verdure, per cui li faccio saziare con le verdure, scusate, ho lasciato la mia faccia, e dicevo, beh, c'è stata ieri una sessione plenaria sull'S Drive, però, visto che Giorgio Metto parla di invecchiamento, microbiota, ossigeno, ho provato a mettere insieme alcune cose, e soprattutto chi usa S Drive avrà notato questa cosa, che ho voluto, parlerò un po' di microbiome, di microbiota, ok, tutte le malattie all'inizio dell'intestino, questo ho visto in questi due giorni parecchi citare Ipocrate, vincendo le malattie con le armi di Gea, una piccola digressione, dovevo salire a visitare l'acropoli ad Atene, ho trovato uno di quei negozietti che vende cose tipiche della Grecia, e mi sono comprato il mezzo busto della dea Igea. Sapete, Igea, figlia di Lampeggia e di Asclepio, e sorellastra di Panacea, ma perché ho preso Igea e non Panacea? Perché Igea faceva la medicina, che cerchiamo di fare, penso, la maggior parte di noi qua, della prevenzione e della promozione della salute. Sulla base di questo ho avuto la fortuna anche un mese fa di invitare da me a Merano, e viene sempre volentieri, chissà come mai, il professor Luigi Fontana, ricercatore di fama internazionale che si occupa di longevità e nutrizione, che dirige il centro di longevità e nutrizione alla Charles Perkins University di Sydney, e abbiamo detto, ma la medicina, sì, si deve occupare della malattia, ma perché non facciamo un cambio di paradigma e iniziamo a parlare di promozione di salute cronica. Mi è piaciuta la parola invece che malattia cronica di salute cronica. È stato, penso, tant'è che ho fatto un'intervista di recente anche a Milano Finanza, è piaciuto subito al giornalista, ah, salute cronica, bellissima, non l'avevamo mai sentito. Per cui, intestino. Allora, visto che l'argomento è invecchiamento e microbioma, dall'est drive ve ne mostro una dozzina di questi 1600 che ho fatto, che cosa ho notato, probabilmente tanti di voi avranno notato, che quando andiamo a vedere i sistemi di supporto, prevalentemente quando trovo alterazioni di intestinale, gastrointestinale, e cos'altro, cioè equilibrio microbico intestinale, quasi sempre trovo anche la voce, emozioni, sistema adrenergico, a conferma di questo cosiddetto asse gut-brain axis, mentre una volta la psicosomatica riconduceva la partenza delle malattie intestinali solo da problematiche a livello del cervello, in questo caso è un'asse bidirezionale dove anche l'intestino, e forse per lo più l'intestino, può andare a dare anche il suo impatto negativo, positivo, a seconda che sia in ubiosi o in disbiosi. Adesso faccio una breve carrellata, ma qua tutti, come vedete sempre, emozioni, equilibrio microbico, sistema gastrointestinale, intestino, poi tante volte trovi anche il sistema adrenergico, per cui io lo interpreto, e poi facendo l'anamnesi, chiaramente diciamo sempre, l'est drive non è un test diagnostico, deve essere sempre preceduto anche da una raccolta dati, che io faccio, quando ancora il paziente è in sala d'aspetto, gli faccio compilare un elenco, e poi comunque lo vedo sempre insieme, perché magari alcune cose non sono chiare per lui, oppure voglio, come dire, indagare meglio io. La cosa, e qua sempre sono davanti, se no potrei, non so quanti ne ho trovati, ne ho messi una dozzina, giusto perché dico, è incredibile come, e poi tante volte, un'altra cosa evidente, vediamo, perché qua adesso non ci vedo, ma ok, le interferenze, per cui sistema intestinale, emozioni, stress, e interferenze elettromagnetiche. In questi giorni, c'è anche chi più di me ha parlato di questo ambito, e di come anche un campo elettromagnetico vada a influire, anche a livello intestinale, di conseguenza poi a livello generale. Microbiome, già anche ieri il professore, ricordi, Guido Marini, Guido Marini, per cui un po' un ripasso, ha già fatto vedere la differenza, cambiando solo una M con una T, come microbioma rappresenta il patrimonio genetico, mentre il microbiota è l'insieme dei microorganismi. Cellule che compongono sono circa 33 mila miliardi, e il numero di batterie, pare, sono dati due, tre, dieci volte, ma a me è piaciuto mettere questa immagine, dove siamo solo 10% umani. Tante volte pensiamo che siamo in simbiosi con i batteri, alle volte viene da pensare che forse siamo noi in simbiosi con loro, cioè un rapporto invertito. Sappiamo che siamo composti, noi umani, da 23 mila geni, il nostro microbioma, io ho trovato un milione, ma ieri ho visto anche il professor Marini che ha 3 milioni, 300 mila geni all'interno tra virus, batteri, funghi, fagi e quant'altro. Fagi forse è un virus perché non hanno il DNA, hanno l'RNA. Questo sappiamo che poi è un microbioma umano, ma abbiamo ogni nostra parte del corpo che è praticamente ha un suo microbioma, forse quello intestinale, quello più rappresentato. Quali sono le cause che possono andare a influire sul nostro microbioma? l'alimentazione, lo stress, l'inquinamento, abbiamo visto adesso Luigi Montano che ha presentato questa bellissima sua lettura magistrale sull'influenza dell'inquinamento dell'ambiente, non solo, io parlo a livello intestinale, ma a livello, penso, globale, perché non c'è cellula del nostro corpo che non risente in maniera negativa dell'inquinamento. Questa è una vecchia classificazione, però vedo che ancora in diversi test del microbioma che mi portano anche i miei pazienti viene definito il tipo di enterotipo sulla base del tipo di alimentazione e di prevalenza della componente batterica rappresentata nel test. Microbioma che chiaramente è dinamico, non è statico, sappiamo che nasciamo con un determinato tipo di microbioma e moriamo, diventiamo vecchi alterandolo per vari motivi. la cosa interessante si pensava che il feto fosse sterile dal punto di vista microbico, in realtà diversi studi, anche studi australiani hanno dimostrato che in realtà già c'è un passaggio di batteri tramite il passaggio placentare che raggiunge già il feto. Poi si parlava di parto spontaneo, parto cesareo, non sono un esperto, dico solo che quando possibile non far diventare un parto cesareo una moda, ma con l'indicazione giusta dal punto di vista del rischio sia per la mamma che per il nascituro perché chiaramente il primo contatto oltre a questo che abbiamo detto il passaggio placentare del neonato con i batteri è o attraverso il canale vaginale ed è la cosa più importante perché altrimenti nato da parto cesareo di solito il microbioma intestinale del neonato tende ad avere più le caratteristiche del microbioma cutaneo della mamma e non quello diciamo vaginale che apporta poi tutta una serie di batteri positivi alle funzioni. Adesso ci sono diversi studi che possono dire che questa alterazione del microbioma già nei primi mesi e anni di vita possa comportare un aumentato rischio di problematiche anche a livello del sistema immunitario. Sappiamo che il GALT e il MALT rappresentano il 70% di tutto il tessuto linfatico del nostro corpo. Questo cambia anche in base alla dieta sappiamo che l'alimentazione per cui dall'importante anche so che anche la Simona lo raccomanda l'allattamento al seno anche qua compatibilmente con mille problematiche che possono io ho avuto la sfortuna della mamma ho avuto la mastite dopo un giorno e io sono entrato nel 69 come il self penso che sia nato sotto una buona stella ho dovuto mi ricordo alimentarmi con dei latti che all'epoca venivano utilizzati che costavano l'intero stipendio al mio povero papà e chiaramente ho sofferto e soffro tuttora l'intestino un po' una mia diciamo un mio punto dolente. Questo solo per far vedere l'importanza del microbioma umano come si è visto anche come nei trapianti di microbioma un soggetto obeso che mantiene però la stessa dieta in un topo che non aveva il gene per l'obesità diventa obeso viceversa il soggetto magro che fa il trapianto di microbiote in un soggetto che ha comunque la predisposizione mantiene una dieta sempre a basso grasso alta fibra rimane magro per cui vuol dire che il microbioma potrebbe ci sono anche degli studi utilizzare il microbioma anche ai fini per il controllo dell'obesità anche se penso che la maggiore indicazione attualmente sia proprio per il trattamento dell'enterocolite emorragica da costridio che non risponde più quasi alle terapie antibiotiche siamo fatti circa da 0,8 un chilo e tre di batteri per cui un organo sentivo ieri che diceva poco meno del cervello e forse poco più del cervello poco meno del fegato per cui un vero e proprio organo questo ogni tanto faccio sorridere anche i miei pazienti che vado a indagare con la Bristol Sturform Scale per capire il tipo di feci e sappiamo che dovrebbero essere questa forma di salsiccia pezzo unico con delle piccole tipo che ricordano un po' le austere o claste dell'intestino del colon mentre invece la maggior parte mi dica sempre chi soffre di stipsi l'uno le classiche feci a palline di capretta piuttosto che le feci malformate a marmellata scusate ma è forfortuna è dopo pranzo tante volte mi davi questa relazione prima di pranzo ok questo solo per far vedere così a grandi linee da come è composto un microbioma diciamo normale abbiamo batteri che devono essere presenti lato bacilli bifidobatteri alcuni che ci sono finché hanno un numero normale non succede niente quando aumentano di presenza possono diventare creare patologie e poi ci sono quelli che ci sono se ci sono sono patogeni per definizione perché è importante una flora batterica ben rappresentata di batteri cosiddetti buoni anche se me lo correggono sempre perché sapete che producono grazie al cibo giusto che gli diamo vitamine acidi grassi a catena corta con effetto antinfiammatorio favoriscono un normale sviluppo del sistema immunitario inibiscono perché alcuni producono anche dalle batteri ocine la crescita di batteri cosiddetti patogeni chiaramente di contro un'alimentazione errata favorisce quelli gialli oppure può far come dire replicarsi i batteri che mai riprendiamo dall'esterno comportando uno stato di malattia solo degli esempi di alcuni test che mi portano che ho fatto questo è uno stato di eubiosi vediamo che tutti i vari pallini sono quasi centrati sul verde oppure sono sullo zero su batteri eventualmente patogeni questo è uno stato di eubiosi al contrario ci sono alterazioni ad esempio delle scherichia colli dell'entrobatteriace con una carenza di lato bacillo soprattutto l'acidofilo e di bifidobatteri e comporta una disbiosi che cos'è la disbiosi chiaramente è un'alterazione del rapporto dei batteri che può causare dei sintomi che sono quelli che io chiedo poi ai miei pazienti tra i vari sintomi prima che entrino nella mia visita dando le regole dal trasito di arrea stipsi il gonfiore che è frequentissimo e vi posso assicurare che non quelli che fanno la settimana ma quelli che fanno le due settimane facendo attenzione a quello che mangiano poi ho la fortuna di avere dei collaboratori io lo chiamo operatore olistico fa un trattamento che si chiama Touch for Health va a lavorare a livello psicoemozionale l'attività fisica l'assenza dello stress questi miracolosamente riducono il loro gonfiore ma nel giro di 15 giorni li obbligo e tante volte passo per i tavoli la bellezza anche di questo lavoro prima di gestio fit in ore io gli insegno mettete il boccone in bocca appoggiate la forchetta in Germania dicono masticare 32 volte e mi domanda ma perché 32 volte perché sono teoricamente i denti che abbiamo io gli dico fermatevi a venti che è già sufficiente perché questo chiaramente fa liquefare il cibo in bocca lo fa arricchire degli enzimi digestivi della saliva e quando il tutto arriva nello stomaco non serve che lo stomaco organo che è meccanico chimico volumetrico debba non darsi di liquidi digestivi ma digestione veloce passa attraverso la valvola e prosegue a livello di duodeno intestino e generalmente questi risolvono il loro problema tante volte i miei pazienti per vari motivi sono sentivo prima il professor che baci riprendiamoci il tempo imprenditori manager professionisti che non hanno lavorano 16 ore al giorno per loro il pranzo è perdita di tempo o tanto meno dedicare tempo a se stessi il pranzo dura 5 minuti poi di cibo anche spazzatura ho avuto la fortuna più volte negli ultimi sette anni da quando mi sono approcciato al microbioma mi è capitato per caso forse un libro microbioma e dieta del professor Fanus che purtroppo è già andato e dell'amico Fabio Piccini anche il professor Fasano e ho frequentato poi la scuola del microbioma Torino sia nel 18 e nel 19 altra problematica importante è la leaky gut syndrome questa sindrome dell'intestino gocciolante dove chiaramente gli enterociti si staccano vengono meno le tight junction queste giunzioni strette e chiaramente cosa succede? Che l'ipopolis accardi soprattutto da batteri gram negativi glutine che non è che siamo tutti celiaci o intolleranti al glutine come si pensa ma in una situazione del genere voi capite che non c'è una selezione cioè non c'è un passaggio selettivo attraverso i vigli e i microvilli ma attraverso questi spazi sapete che al di sotto degli enterociti c'è la sottomucosa al di sotto c'è tutto il tessuto linfoide e questo crea delle reazioni infiammatorie locali ma non solo risposte anche autoimmunitarie e a seconda del nostro HLA possono poi venire delle patologie autoimmunitarie a livello tiroideo piuttosto che a livello osteoarticolare per cui l'artite romatoide la tiroide mi è detto la scimoto malattie della pelle come la psoriasi poi e finisco penso a avere altre due o tre diapositive invecchiamento cerebrale ho trovato dei lavori abbastanza recenti e vabbè il concetto del intestino del cervello è penso arcinoto ma io ne vedo spesso anche due di altre per cui ce la facciamo alcune malattie neurodegenerative come ho scritto prima tipo l'Alzheimer il 10% è genetico ma il 90% è lifestyle anche il Parkinson può avere una genetica ad esempio penso che Michael J. Fox che l'ha avuto in età 30-40 anni non fosse da lifestyle però si è visto l'influenza vedete dell'intestino che addirittura produce non lo sapevo pensavo si producessero a livello solo della sostanza nigra ma sapete che poi c'è il collegamento del sistema nervoso autonomo simpatico parasimpatico nervovago ma anche sistema gastroenterico queste alfasinucleine sono degli aggregati che attraverso anche il vago risalgono attraverso il torrente circolatorio raggiungono la sostanza nigra a livello del cerebrale si depositano e vanno a creare il danno poi tipico della malattia di Parkinson oltre che un intestino infiammato sappiamo che ha comunque un'infiammazione generale con l'aumento di citochine interloquina 1 interloquina 6 tumor necosis factor alfa aumento dei radicali liberi ecco perché comunque anch'io nel microbioma utilizzo sempre il self food e Giorgio lo sa da me in clinica non c'è paziente che non esca con la scorta di self food perché comunque tendenzialmente sto iniziando a vedere anche persone sane che vengono per rimanere tali ma in questi 14 anni sono 14 anni che lavoro è una percentuale bassissima dell'ultimo periodo fino a 14 anni fa addirittura era un centro 7 kg in 7 giorni non l'ho accettato l'ho modificato Villa Samantha di conseguenza c'è questa problematica di disbiosi che può anche favorire lo sviluppo di invecchiamento cerebrale ecco perché ho cercato di collegare il discorso microbioma invecchiamento ma anche il morbo di Alzheimer ha la stessa problematica perché l'infiammazione favorisce l'iperfosforilazione della tau protein deposito dalla proteina beta amiloide con i danni che ne conseguono quali sono le strategie e qua ci vorrebbe un'altra un'altra sezione sarà per la prossima volta alimentazione attività fisica io uso molto anche ho seguito diversi corsi di varie aziende che producono probiotici ne utilizzo uno non dico il nome per ovvi motivi ma li conosco ormai a memoria e so dare tutto il protocollo anche sulla base dei test che faccio ma non sempre li faccio perché alla fine un po' l'esperienza è poi importantissima abbiamo visto io davvero lo posso fare in questi 15 giorni gestione stress ed emozioni io ho finito nei tempi sono contento grazie per la vostra attenzione grazie a tutti grazie a tutti